vediamo se riusciamo a far felici e contenti gli amici di facebook grazie a tutti Musica Il pubblico non li sta vedendo ma su Facebook li potete seguire C'è un momento dedicato allo swing anche ballato non solo ascoltato che in questo momento sta andando in diretta sulla pagina Facebook dell'Automobile Club Pistoiese E' un modo come un altro per regalare lo spettacolo agli amici in transito della Mille Miglia 2019 da Pistoia Musica Musica Io vorrei salutare Salutare lo sponsor ufficiale Musica Grazie, grazie ragazzi, grazie per lo spettacolo Musica Musica Musica